Ciao, benvenuti in questo nuovo video, oggi faremo una salsa di mirtilli, questa salsa può essere utilizzata come marmellatina oppure come accompagnamento per le carni. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 200 grammi di mirtilli, 70 grammi di zucchero e 30 ml di acqua. Iniziamo. La prima cosa mettiamo acqua e zucchero in un pentolino, accendiamo il fuoco e lasciamo sciogliere. Nel frattempo qua il risotto sta cuocendo, per il video vi lascio qua il link. Like, iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici. Una volta sciolto lo zucchero aggiungiamo i mirtilli. Portiamo a abolizione e lasciamo cuocere per una quindicina di minuti. La nostra salsa si è addensata e la lasciamo raffreddare e forse più tardi. Abbiamo un special guest, un guest star, un ospita sorpresa per l'assaggio. Anche calda è buona. Andiamo l'assaggio con il nostro special guest, Sansa di Mirtilli, con carne di coedito. Spettacolare! Like, iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici. Like, iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici.